Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Involved o Involved 4 su Brawl Stars se vi interessa e questo è per l'appunto Brawl Stars che non portavo da un bel po' di tempo io a dire la verità sinceramente avrei sempre voluto portare PGR ma ultimamente mi si sta crescendo il gioco e ciò rendeva impossibile la mia registrazione allora c'è una nuova modalità di questo gioco che mi rende molto interessante per questo ho deciso di fare una review e di portarla in questo nuovo video allora praticamente qui ogni brawler in più che non che combatti e che batti allora non sono molto pratica quindi probabilmente questa partita la perderò ma anche mentre la mi rende molto male proprio perchè adesso sono in un aspetto di... come ve lo vedete sono... ma... ma proprio male allora e... perchè adesso noi andiamo a riprovare sempre con... perchè noi non ce ne vediamo mai eh ehm ahuh.... eh eh! allora stavolta spererei che non ci siamo... brawler... eh!" eh mathач il problema è che devo attivare la mia super per rendermi un filino più veloce e più forte il problema di andare da qui sa forse... ecc... come vedete io sto laggando tantissimo quindi possiamo dare anche la propria di tutto a lag adesso abbiamo anche una velocità normale abbiamo dato il bombardino però sta un po' usando quindi noi intanto ci spieghiamo così e ci spieghiamo no non moriamo allora quando lui arriverà qua va bene noi intanto ce ne spieghiamo e finiamo qua la partita allora visto che volevo più dare un po' di energetiche che abbiamo anche le nostre missioni potremo effettivamente fare il video un po' incontrato oltre che alla nuova modalità allora il mio obiettivo adesso è quello di chillare più player ci siamo già molto male allora non ce ne andiamo lì qua e speriamo di mettere poi il nostro lagg non aiuta ma ormai è chiaro che rimarrà il nostro amico per sempre questo lagg non ci faremo assolutamente dobbiamo stare senti anche alla neve oltre che gli altri territori che ci prendono più costo quando ci ammazzi e allora Non sono col copyright, io lo porterei anche volentieri, però ci sono due canzoni col copyright, oppure col copyright. Io il copyright non ne voglio sapere niente. Se ci mettiamo qui, possiamo stare. C'è una gara in questo game, che vediamo un po' qui. Allora, perfetto, non siamo i primi a morire, cosa che ci avvantaggia già qualcosa di qualcosa. Se riuscissi molto a piacere, sarebbe una bella faccita, ma io sono abbastanza sicura che non... Come l'ha detto... Come l'ha detto, se mi riesci ad avere anche una... Una... Tassa, magari... Tanto l'ho trovato il broker da poco, quindi non troverò mai il broker, è così. Quello stecca... Se lo stecca con sei ribalti, è molto abbastanza. Le scatte... Non ci... Non ci... Non ci... Non ci... La persona delle pere, ma la importante è... Alla montagna delle pere, se lo bestreverei... E lo bestreverei... E lo direi ragione, però... No... Così noi intanto abbiamo dei cadetti... E poi spererei di diventare un filino più veloce... Con... Per l'appunto la sua scattura... Ma non è qua... Sì... Oh... Ecco qua... Ho anche spillato la barra... Però ci potenziamo appena troviamo un altro ruler... Perchè così... Gli facciamo anche delzà... No... Un po' dei rumori... Un altro... Però sono questa piccola... Non so... Ci può sentire... Non ho intenzione di... Allora... Fermo... Alla passione... No... 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 Shh... Allora, noi abbiamo anche la nostra missione fatta... Quindi abbiamo anche... Abbiamo fatto... Non ho fatto una coppia in più... Vabbè... Abbiamo anche la nostra cassa enorme... con la quale tenderei a concludere il video in quanto sta durando abbastanza allora aspettiamo l'aprimi come sempre ma sono abbastanza sicura che non ci sia nulla forse aumentata anche dal fatto che abbiamo trovato 76 monete e parecchi punti energia io dynamite non lo uso quindi non so cosa mi potranno fare tutti questi punti ma vediamo un po' che possiamo migliorare io come vedete non ho fatti proverlo nemmeno alla metà però io non so più che fare qua perché al momento noi abbiamo sempre le solite coppie di prima cioè ne abbiamo una in più e la modalità l'abbiamo già testata la coppia è questa avrei dovuto guardarla a inizio video e quindi quindi niente ragazzi io vi saluto e al prossimo video e al prossimo video ciao a tutti